Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale, come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7, sto registrando di fila dallo scorso video, sono passate 4 ore in cui ho dovuto scaricarmi naturalmente tutto il gioco, 97 giga di patch e tu mi spieghi nel mio cd che cosa c'era, nel mio blu-ray disc 4k che cos'era presente, se mi sono dovuto scaricare quasi 100 giga di aggiornamento, io non ci sto credendo, assurdo. Allora rifaccio quest'intro perché non aveva iniziato la registrazione della voce, il gioco ti fa partire con il rally musicale, chi ha visto lo scorso video se lo ricorda, chi non l'ha visto vi invito a recuperarlo, ho recuperato le prime 3 gare che erano possibili prima di aver installato tutto il gioco e ho fatto tutte e 3 le coppie oro, ci ho messo un po', è stato un po' complicato ammetto eh, lasciamo perdere però per questo momento la modalità rally musicale, io vorrei buttarmi appunto nel gioco vero e proprio. Mappa del mondo, vediamo un po'. Allora a questo punto mi aveva chiesto quale difficoltà scegliere, ripeto che sto registrando di nuovo, non aveva registrato la voce, con tipo 3 livelli di difficoltà e avevo chiaramente detto che è una cosa che mi spaventa, nel senso è una cosa che abbiamo sempre chiesto per quanto riguarda la difficoltà più forte. Adesso però inizio a preoccuparmi che non sono in grado di vincere con questo livello di difficoltà, spero di no, cioè vorrei avere dei combattimenti ma senza che devo stare a bestemmiare, che devo fare la licenza da pilota di Formula 1. Comunque ho selezionato la difficoltà massima e a questo punto avevo detto che non avrei fatto vedere questo filmato ma vi spoilerò un'altra cosa, che siamo obbligati a vedercelo. Per carità, bellissimo, però voglio giocare. Me lo vedo un'altra volta perché in realtà l'ho già visto su YouTube, è bellissimo eh. Però voglio giocare, ripeto, voglio giocare però, voglio giocare cazzo. Ok, finito adesso il trailer. Certo che non permettermi di schipparlo non credevo di essere in un regime di dittatura. Come ho detto poco fa, è un filmato bellissimo, ma se l'ho già visto vorrei schipparlo, vabbè. E ok, quindi si inizia qui, questa è la nostra mappa del mondo. E niente, avremo un'introduzione, credo, a differenza di GT Sport. Ok, Sara, ciao, tu devi essere a Darkmeak97, la tua nuova avventura sta per iniziare. Piacere di conoscerti, io sono Sara, sarò la tua guida in questo mondo di Gran Turismo. Prima di iniziare una domanda. Hai mai esplorato il mondo di Gran Turismo? L'ho creato io sto gioco, cioè, boh, non lo so, mi chiede, boh. Nel mondo di Gran Turismo 7 ci sono cose rimaste come un tempo. E delle nuove aggiunte. Aggiunte che prevedono guida veloce, gare da vincere, auto da collezionare e la cultura automobilistica. Diamoci da fare ed esploriamo l'erico mondo di Gran Turismo. Prima di tutto ti serve un'auto. Qui vicino c'è un concessionario di auto usati dai prezzi abbordabili. Andiamo a dare un'occhiata. Ok, qui troverai auto usate in vendita, procurati la tua prima auto. Vediamo un po', vediamo un po'. Notare che a differenza di GT Sport, cioè, GT Sport tu entravi anche al primo avvio, ti regalava un'auto, fai quello che ti pare. Qui invece c'è una bella introduzione. Ciao, prima uscita. Sono Andy, il proprietario di questo concessionario, pacere di conoscerti. Andy o Andy? Boh, Andy, non lo so. Ecco le auto che abbiamo in vendita al momento. Daresti qualche consiglio su come scegliere la prima auto? Beh, basta che non sia a trazione anteriore. Boom! No, scherzo. Certo, nessun problema. Quando scegli l'auto, non valutarne solo aspetto e prezzo, ma anche il valore PP, punti prestazione. E sintetizza la velocità raggiungibile dall'auto. È un indice numerico generico della velocità di un'auto. Viene calcolato in base a potenza aerodinamica, maneggevolezza e così via. Più alto il valore e i punti prestazioni, più l'auto è veloce ed efficace. Visto che sei all'inizio, sarebbe bene iniziare con un'auto giapponese compatta. Al momento ho a disposizione queste tre. La Honda Fit, la Toyota Aqua, la Mazda Demio. Sono tutte e tre adatte ai tuoi scopi. Puoi scegliere in base al valore, ai punti prestazioni o all'estetica. Quindi le prime tre. Raga, io direi di optare per auto che su GT Sport non c'erano. Quindi andrei di Acqua S. Auto ibrida. Eh no, allora no, scusami. No, non sono tutte ibride, è impossibile. La Demio, eh vedi, la Demio non è ibrida. Dai, facciamo così, raga. Prendo la Demio. Avrei voluto provare l'Acqua S perché è un'auto nuova. Però l'auto ibrida no, signori. Assolutamente. Compra, vai. Abbiamo già finti i soldi, praticamente. Ok, livello collezionista, livello 1. Vabbè, sono cose che poi piano piano impareremo. Sarebbe stato meglio se ci avesse fatto andare nelle impostazioni. Quando acquisti o ricevi un'auto, tieni punti collezionista in base al prezzo o valore. Più punti collezionista possiedi, più elevato è il tuo livello collezionista. Il livello collezionista riflette il tuo rango come collezionista di auto. Procurati tanti auto e incremento il tuo livello collezionista. Se dico un'altra volta il livello collezionista, guarda. Vedo che hai scelto la tua prima auto, congratulazioni. Bene, questa sarà la tua prima auto. Ti consiglio di andare subito al tuo garage e dare un'occhiata al tuo acquisto. Quindi torni indietro. O fa tutto lui? Non lo so, mi sa che fa tutto lui. Devo disattivare subito le musiche perché già sicuramente col primo video mi son beccato copyright. Ok, garage è accessibile. Andiamo. Vedi, proprio un bel tutorial chi ti guida. Secondo me ci sta, ci ti porta abbandonata a te stesso perché non c'era un cazzo. Questo è il tuo garage, è lo spazio dove terrai le tue auto. Sarà la tua base dove potrai cambiare auto, modificare le impostazioni o soltanto rifarti gli occhi. Con una Demion non credo. Qui rescatterai anche i biglietti vinti nelle gare e riceverai qualche oggetto omaggio. Quando avrai finito di dare un'occhiata ti porterò al caffè. Al caffè. Non devo fare nulla, quindi posso già tornare indietro. Abbiamo delle prestazioni del veicolo abbastanza ridicole. Vabbè, era un'auto usata, ci sta. Ok, andiamo. Andiamo un po'. Il caffè è poco più avanti. È un posto davvero unico, un ritrovo molto gettonato tra appassionati e progettisti di auto. Mi sa che sto episodio non guidiamo, eh. Ha anche un menù speciale per i collezionisti di auto, non mi fa tempo. Porca madonna, dammi il tempo. Sei all'inizio di una nuova avventura, vero? Mi chiamo Luca e gestisco questo caffè. Oltre a cibo e bevande offro anche menù speciali con cui poter esplorare questo mondo. Il menù contengono suggerimenti e obiettivi che renderanno più divertente la collezione di auto e le gare. Una volta completato un menù, ne avrò un altro pronto qui ad aspettarti. Iniziamo con il tuo primo menù. Ok. Collezioni auto giapponesi compatte. E se faccio dettagli, cosa succede? Il primo menù che ho preparato per te è basato sulla collezione di auto giapponesi compatte. Devi semplicemente acquisire le tre auto elencate nel menù. Potresti averne già uno o due, ma devi ottenerle tutte e tre. Puoi ricevere le auto come ricompensa per le tue prestazioni in alcune gare dei circuiti mondiali. L'icona arancione a forma di bussola ti indirizzerà verso le gare che devi vincere. Quando avrai tutte e tre le auto, torno al caffè e ti aspetto. Ho già finito la voce, ragazzi. Ve lo dico così. Alto trofeo. Tra l'altro il logo l'hanno lasciato uguale a quello di GT Sport. Ora circuiti mondiali è accessibile. Ora vetrina è accessibile. E vabbè, vado circuiti mondiali, vetrina, lì vedi le livree dell'auto, casche e cose del genere. Per ora andiamo avanti. Vorrei gareggiare. Andiamo in Europa? No, lago maggiore. Scusami. Meglio lago maggiore. Ok, Sunday Cup, due giri. Ah, mica, di là abbiamo già GT3 Cup. Va bene. Sotto abbiamo gare arcade, esperienza sul circuito, prova a tempo, prova a dirappata, gara personalizzata. Boh, io clicco qua perché non lo so. Vai, partecipa. Vediamo un po' anche le impostazioni. Ha dei caricamenti fulminei, eh. Vedi, ha già fatto. Impostazioni. Abbiamo le comfort medie. Non possiamo cambiare nulla. Impostazioni dettagliate. Qui c'è tutto il setup dell'auto. E... Per quanto riguarda... Questo riabbassiamo la 8 perché non è che mi faceva tanti impazzire, eh. Ok. Andiamo. Ovviamente i visuali interno. Come si cambiava con questo? Forse è un po' scuro, no? Radar meteo, ma non credo ce ne sarà bisogno. Vi dirò un'altra cosa, ragazzi. Cioè, sembra che lo dico perché sono fan di Gran Turismo da sempre. La fisica, però, non è la stessa di GT Sport, eh. Cioè, finché non lo provi... Vabbè, taglio tanto qua. Vedete, pure i sobbalzi. La fisica non è la stessa, raga. Io ho rigiocato i tre rally music del primo episodio dove ho fatto tutte e tre le coppie oro, no? Lì ho... Ci ho messo un po' a fare gli oro, no? E quindi mi sono reso conto meglio di quanto effettivamente la fisica non è la stessa. Adesso... Magari vediamo se ci farò un video dedicato sulle prime gare, ragazzi, qua sorpassi subito, eh. La frizione vediamo se la prende, no. Se non ha il cambio ad H, non la prende. Abbiamo 23.000 km sul gruppone. Vabbè, la puoi anche simulare, la frizione volena. Vabbè che non ho il cambio ad H. E anche graficamente comunque qualcosa di incredibile. Quando esci fuori, guarda, cioè è bellissima sta cosa, eh, che traballa tutta l'auto. Il problema è che non lo senti tanto sul volante. Cioè a livello visivo parecchio bello. Sarebbe stato meglio sentirlo anche sul volante, però vediamo. No, tacci tua, lo senti, sì. Forse non tutto. Tipo questo sono salito e non l'ho sentito. I cordoli non li sento, però. Mi sa che bisogna regolare qualcos'altro. Le ombre sono molto più definite. Non so perché ho la traiettoria. Vabbè, dopo la togliamo. Mi sa che bisogna regolare la visuale esterna, eh. Ok, è arrivato. Eh, magari per ogni gara vi vado a mettere anche i replay. Sempre se me li fa salvare, eh. Ok, pilota pulito, va bene. Vediamo se mi fa salvare i replay. Che bello che hanno messo anche tutta questa, diciamo, schermata finale. Bonus gara pulita, va bene. Premi in denaro più 50%. Cerchiamo di stare puliti, allora. Tra l'altro io avevo l'edizione, cioè ho preso l'edizione quella più costosa, che dentro c'era un codice. L'ho venduto e non solo ho perso il gioco, che non me ne frega un cazzo, perché tanto ho la versione PC5. Ho perso pure tutte le auto. Però ho detto, vabbè, sti cazzi, tanto si fa arma su un gioco come Gran Turismo, non è un problema. Me le compro per conto mio. Salvare play. Minchia, se non aveva questa opzione, lo andavo a vendere subito. Ok, così vi faccio anche dei montaggi più carini, con la visuale esterna. Ok, quindi questa è completata. Non possiamo fare GT3, non abbiamo l'auto. Infatti. E... e mo? Come funziona? Cioè, devo uscire? Andiamo in Asia, Oceania. Però prima voglio fare una cosa, ragazzi. Ok, uguale a GT Sport. Andiamo su opzioni. Audio. Effetti menu lo lascio. Musica durante gara no. Effetti gara 10. Musica replay no. Altra musica. Rumore, motore giocatore. Rumore del cambio. Stradio delle gomme lo abbasso un po'. Perché so che si sente un po' troppo. E per ora lasciamo tutto così. Ok. Questi comunque, per chi se lo chiedesse, sono tutti i volanti supportati. Abbiamo il Fanatec GT DD Pro, T80, T150, T300, TGT, G29, 923 e il CSL Elite. Hanno tolto il T500 o sbaglio? Mi sa che c'era anche il T500 su GT Sport. Ne aspettavo di più di supporti. Però va bene, va bene. E andiamo su circuiti mondiali. Mancava. Asia-Oceania. Ok, andiamo avanti qui. Altra gara. Ok, proviamo. Partiamo come sempre. Ultimi due giri abbiamo. Dura un cazzo praticamente. Tutti giapponesi. Honda Beat del 91. Toyota Prius. Questa non c'era su GT Sport, eh. A livello di danni ho scoperto anche che qualcosa è cambiato, eh. Ci farò un video dedicato. Nel Rally Music, visto che comunque li ho rigiocati, ho preso le coppie oro. E ho dovuto scaricare 100 giga di aggiornamento. Ho avuto molto tempo libero. Ho provato a fare tipo delle tamponate assurde, dei frontali. Mi sono accorto che l'auto nel momento dell'impatto sia... No, mi sa, solo contro il... I muretti, il guardrail. Fa fumo. Molto fumo. Come un vero schianto, no? E mi sono accorto anche che volano parti di auto. Cioè, si vedono tipo dei pezzi di lamiera, di carrozzeria. Poi, effettivamente, sull'auto non si stacca nulla, eh. Se questo ve lo stesse chiedendo. Lo steste chiedendo, non si stacca nulla. Mi sa che questa non la vinciamo, eh. Però, comunque, è cambiato qualcosa. Il bello è quello, secondo me. Ci farò un video dedicato, comunque, eh. A questa cosa qui degli impatti. Siamo primi, eh. Cazzo di pochissimo. Ok, a posto. E... Anche qua mi salvo il replay. Dai, voglio fare qualcosa di... Di più carino. Foto finish, alto trofeo. Va bene. Schifo, non ci fanno. Bonus, gara pulita. Premi di denaro, più 50%. Ok, abbiamo preso anche l'ultima auto. Quindi, il primo... Book l'abbiamo completato. Più che altro non so come muovere i mini-minu. Io il GT4 non l'ho giocato, ragazzi. È l'unico... Cioè, dopo una lunga serie che ho saltato. Quindi non so bene come comportarmi quando finisco di fare qualcosa. Tipo, mo che si fa? Ah, caffè. Sì, abbiamo finito il... La lista di auto giapponesi compatte. Ok, alto trofeo. Qua ce ne stanno andando a frotte. Hai completato collezioni auto giapponesi compatte. Congratulazioni, hai acquisito tutte e tre le auto. Hai completato questa collezione. Sapessi quante storie ho da raccontare su queste auto. Ah, dopo. Chissà che storie ci può raccontare su quelle tre auto, mamma mia. Ascolta attentamente, approfondirei le tue conoscenze e farei nuove scoperte. Biglietto, rulletto e una stella. Una ricompensa per il completamento di un menu. Ok, ti dà anche la data, tutto. Centro patenti sbloccato. Sapete quei posti dove si bestemmia tanto. Eh, avete capito. Come si può intuire, il termine autocompatta indica le auto con passo ridotto in termini meno spaziosi. I nuovi piloti le apprezzano perché sono facili da controllare e ideali per l'uso quotidiano. Le compatte giapponesi sono famose per le loro qualità tecniche. Un ottimo esempio è il motore diesel di questa DIMO di quarta generazione. Considerato un capolavoro di Mazda. Notevole anche la Honda Fit Hybrid. Di terza generazione, l'auto giapponese dai consumi più efficienti al lancio. Infine c'è la Toglio Atacqua, un'altra ibedra compatta dai consumi efficienti e molto maneggevole. Come puoi vedere, molti autocompatti sono diventati dei veri e propri classici. Graficamente incredibile, signori. Mamma mia. Non ho mai visto nulla del genere io, eh. Mettiti alla prova il centro patenti. Va bene, quindi abbiamo un secondo menu. Godwood e Bransetch. Questa volta non ti chiederò di collezionare auto, ma di andare al centro patenti. Ottenere patenti dal centro patenti è un ottimo modo per migliorare se si incontrano difficoltà in gara e se hai fiducia nelle tue capacità puoi metterti alla prova cercando di ottenere l'oro in tutte le sfide. Inizia ottenendo almeno un bronzo nella prima sfida valida per ottenere la patente nazionale di livello B. Torna da me quando avrai messo in tasca il premio. Ok, mettiti alla prova il centro patenti. Menu numero 2. Adesso devo vedere anche quanto fare lunghi gli episodi. Non vorrei superare i 25 minuti. Preferisco fare più episodi che magari durano un po' meno. Quindi direi che ci completiamo ste cose. Farò un botto di tagli nell'intermezzo per guadagnare un po' di tempo. Ok, andiamo al centro patenti. Questo è il centro patenti. Qui acquisirai le tecniche di guida necessarie. Non mi fa leggere. E le patenti che dimostreranno le tue competenze. Completando i test acquisirai molte tecniche di guida e diventerai più forte e più veloce. Inoltre qui puoi mettere alla prova le tue abilità. Allenati qui per diventare insuperabili in questo mondo. O in questo modo, non ho letto. Mamma che cazzo ne so. Solis. O Solis. Questo qui fanno tutti parte dei campioni del mondo di Gran Turismo perché li ho già visti. Ti do il benvenuto al centro patenti. Sono Daniel Solis, l'istruttore per la patente nazionale IB. Sono anche un pilota di Gran Turismo, regione Nord Amir. Eh, perché me lo ricordo. Qui potrai migliorare le tue capacità partendo dalle basi come guida, sterzata e frenata. Dai, proviamo. Ok. Ah, quindi sarà la prima classica sfida della frenata. Ok, gli aiuti sono già tutti tolti. Proviamo. Qua il replay non ve lo metto, eh. Sono proprio così... Va bene. 20 e 5. È anche diverso quando metti le marce, eh. Su GT Sport non è così. Ho preso l'oro. Bene. Con attuazioni per l'oro è stato fanta... Credevo di non riuscirci, onestamente. Credevo di aver... Frenato tardi. No, va bene così. Esci. Ok, sempre XP, soldi. Va bene, va bene. GTO Twin Turbo del 91. Partenza e fermata a 2. Sarà più lunga la pista. Tra l'altro ci troviamo ad Icepeeder Ring, eh. Vai. Gli aiuti sono già tolti, eh. Abbiamo tra l'altro il radar meteo. Naturalmente qua non serve, ma... Anche quando metti le marce nel gioco... Cioè, si vede che mette la frizione, perché fa... Il... Fa così, no? Come nella realtà... Su CD Sport. Non è così. Aia! Aia! Sì, ho frenato tardi, in effetti. Vabbè, riprova, signori. Dai, scusami. Ho i tassi delle luci. Bellissimo. Anche il volante vibra, eh. In fase di... Di partenza. È come se mette la frizione, guarda. Bella sta cosa. Le amiterge. Ma vaffanculo. Oh, ste prove veramente passano gli anni, ma... Sempre difficile. Potrei scalare in modo abusivo, però di vincere così a me dà fastidio, eh. Nonostante non è un simulatore, vorrei trattarlo in modo serio, questo gioco. Proviamo a staccare prima. Oro preso. Ok, terzo tentativo, direi che va bene. Copen 02, Alsace, villaggio. Tra l'altro su questa pista hanno messo una nuova variante, eh. Più avanti la vedremo. Non so se a inizio video ve l'avevo detto, ma nello scorso video mi sono accorto che l'illuminazione era un po' bassa. Ho provato ad aggiungere qualche luce. Non mi ricordo se ve l'avevo già detto, perché ho fatto una seconda registrazione e non era partito l'audio. Proviamo. Questa in realtà è una bella auto, eh. Cioè, a livello di guida vi assicuro che è abbastanza carina. Un po' buio all'interno, però, eh. Argento, riproviamo, riproviamo. Sembrano stronzate, eh. E poi? Non la metto la marcia qua, non conviene. Mi sa che non devo alzare il piede. No, mi sa che non lo prendo manco mo' loro, eh. Preso. Ok. Via così. Audi TQP 3.24 del 2003. Ok, vai. Graficamente, incredibile, ragazzi. Cioè, il livello di dettaglio delle auto è assurdo. Mi ha messo due marce, mi ha messo. Un po' brutto l'ingresso, eh. Ho preso l'oro comunque. Va bene, eh. Non è che mi lamento. Ah, 112 Abarth e dell'85. Cazzo, quest'auto non la guido da... Da Gran Turismo 6 non la guido. Ed era pure un modello standard. Ma è premium. Guarda che dettaglio. Ma che assurdo, eh. Devo togliere la traiettoria. Mi devo ricordare. Finalmente abbiamo l'impugnatura del volante giusta, raga. Mamma mia, finalmente. E non ho preso l'oro. Mamma mia, che penura ste patenti. Cazzo. Fammi vedere un po'. Tergi, quattro free. Fammi vedere com'è quest'auto. Ce l'aveva? Ce l'aveva, ce l'aveva. Preso. Boom. Ok. Fair Lady ZZ34 del 2008. Tsukuba Circuit. Non so se questo modello c'era su GT Sport, eh. Perché hanno messo un modello simile, che su GT Sport non c'era. Questo mi sa che è quello che c'era già. Credo. Il sovrasterzo è reso più realistico comunque, eh. Raga, non era così GT Sport, eh. Cazzo è difficile. Pure il bronzo ho preso. È difficile, raga. Preso. Mamma mia. Cazzo. È più bella la fisica, raga. Dovete provare. Senti sound. Io non ho parole. GR 86 e RZ del 2021. Praticamente un'auto nuova questa. Questa c'era già, eh. Ah, siamo su Trial Mountain. Ok, dice che dobbiamo trovare il punto giusto dove frenare. Lo vedo un po' scuro il gioco. Devo aumentare un po' i valori di... di esposizione. Si vedi che i neri sono troppo neri, eh. Ho detto così sembra una frase razzista. Direi che abbiamo fatto un po' schifo, eh. Riproviamo. Ho preso. Godo. Bene, bene, bene. Secondo tentativo è andato. Direi che ci facciamo tutte le patenti di questa licenza e poi possiamo chiudere il video. Taglierò tantissimo nell'intermezzo, raga, e mancano tre prove. Così almeno il video esce prima ed esce pure meno lungo. Qui scoprire la prima curva di Mount Panorama. Ah, quel tracciato semplicissimo dove non hai i muri a un metro. Lancer Evo 4 GSR del 96. Questa c'era già? Su GT Sport. Si c'era. Ma hanno giunto un altro modello che non c'era, che non c'era. Ma non è questo. No, non ho preso, ero sicuro. È stato lento. Vabbè, riproviamo. Usa i punti di riferimento. Vabbè, che ci sono i coni di frenata, eh. No, allora. 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 Un po' più aggressivo. Va bene, così, eh. Va bene, ma per pochissimo, eh. Certo che se sto avendo problemi qua mi immagino più avanti, comunque, eh. Abbiamo nazionale A, internazionale B, internazionale A, super patente. Lì devi essere pilota nella vita reale. Questa è un'auto nuova che non c'era su GT Sport. Civic Type R Limited Edition FK8 del 2020. Non è neanche vecchia, eh, se vai a vedere. Qui ci troviamo a... Come cazzo si chiama sta... Non mi ricordo. Non mi ricordo. Ce l'ho qui e non mi ricordo. Dragon Trail. Pazza quant'è bella all'interno. Qui i cordoli li senti, vedi? Ok, immaginavo che non l'avremmo preso. Siamo usciti meglio, eh. Preso? Ok, a posto. Va bene, va bene. Non vedo l'ora di provare queste auto per più tempo e non per 50 metri. Perché sembrano molto divertenti da guidare. Il gioco è molto diverso da GT Sport, eh. Sia a livello visivo che a livello grafico. C'è molto da imparare qua, eh. Ok, Clio RS Trophy del 2016. Questa c'era già su GT Sport. Questo è l'esame finale, eh. È una sezione di curve dello Tsukuba Circuit. Va bene. 25 secondi e 400. Eh, qua bisogna usare tanto volante in quel tornante. Qua tagliamo un po'. Inchiudata. No, ho preso malissimo. Malissimo. Siamo pure usciti. Riprovano. Ho pure messo il logo. Pensate. Sentirete un botto di vibrazioni in fase di sottosterzo, eh. Ho preso, oh. A posto. Bene, bene, bene. Abbiamo pure una ricompensa. Ah, la Clio RS ci regala. Non sono tanto d'accordo con questi regali. Cioè, sarebbe bello comprarsene le auto. Ci sta un'auto ogni tanto. Magari completi qualcosa di importante, eh. Quello sì. Va bene, si va avanti anche con il livello pilota. Ragazzi, io direi che per questo video possiamo fermarci qui. Ah, ma abbiamo un altro... Ah, ce le regala tutte. Questa mi fa piacere perché è una bella macchina. Anche la Clio è una bella macchina, nel senso. Ah, perché abbiamo preso l'oro in... La Clio perché abbiamo completato l'ultima sfida. Questa perché abbiamo fatto tutto oro. Ok, Coco e Lopez. Anche lui campione, campione tanto, campione di Gran Turismo. Della Spagna. Mi sembra che aveva vinto anche qualcosa nei campionati mondiali, eh. Se non mi ricordo male, eh. Ok, stavo dicendo, ragazzi. Direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate di questo video. Cosa ne pensate in generale, da quello che avete potuto vedere, di questo Gran Turismo 7. Io, come sempre, vi ringrazio per il supporto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. 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 Alla prossima.